Musica E' andata molto bene, si chiude qui nella sede di Pisa, stamani sono stati all'ospedale del cuore di Massa. Sono contento che si chiude qui perché è da dove tutto è partito, da dove è nata l'idea del professor Donato, che poi questa idea è cresciuta e esplosa. Qui a Pisa hanno potuto vedere tutta la nostra piastra diagnostica, la nostra TAC a photon counting che è la prima nel sud di Europa, la seconda in Europa nel mondo dedicata interamente alla cardiologia. Hanno potuto vedere da vicino tutte le attività ultra specialistiche che vengono fatte, anche la cartella clinica elettronica, apprezzandola veramente fino a un fondo. E poi si è concluso con un evento non previsto, la testimonianza di un paziente, un paziente che ormai ci segue da più di vent'anni e che ha voluto testimoniare alla terza commissione la qualità del servizio che riceve presso il nostro ospedale. Così Marco Torre, direttore generale della fondazione Monasterio, che gestisce il centro cardiologico con due anime diverse che interagiscono, l'ospedale del cuore di Massa e l'ospedale San Cataldo CNR di Pisa. Qui la commissione sanità del consiglio regionale ha effettuato una visita, al mattino la struttura massese nel pomeriggio spostandosi all'ombra della torre pendente. Marco Torre è stato da poco riconfermato dalla regione toscana nel ruolo di direttore generale. Ho accolto personalmente molto bene ma soprattutto l'ho accolta molto bene perché abbiamo lanciato tanti progetti nel primo mandato e quindi mia intenzione è appunto sfruttare la conferma per poter dare continuità a questi progetti. Sono tutti finalizzati soprattutto ovviamente al riconoscimento di Monasterio come istituto di ricovera e cura a carattere scientifico ma abbiamo anche tanti progetti che ci portano per esempio ad aprire la nostra collaborazione sempre più nel territorio, ad esportare la nostra cartella clinica e i nostri modelli, a potenziare il processo di internazionalizzazione dell'ente perché veramente le competenze di un centro come questo, sempre più integrato con il mondo della ricerca, la scuola Sant'Anna, il CNR e anche l'Università di Pisa possono rendere ancora più efficace l'azione che abbiamo fatto fino ad adesso. Un'eccellenza del sistema sanitario toscano, dice il presidente della commissione Enrico Sostegni al termine della visita, con lui anche il vicepresidente Andrea Ulmi. La visita rientra nell'ambito delle visite che stiamo facendo dei presidi sanitari e delle aziende del sistema sanitario regionale. Questa visita conferma l'idea che avevamo, cioè la fondazione Monasterio è un'eccellenza per la Toscana e per il paese perché grazie all'idea illuminata del professor Donato siamo riusciti con questa fondazione a mettere insieme la ricerca, alto livello di ricerca e di competenze scientifiche alla clinica e questa è una combinazione assolutamente vincente. La sanità, l'alta qualità della sanità del futuro si ha laddove si ha ricerca, personale motivato e capacità di trasferire immediatamente la ricerca alla clinica. È questo che si fa alla Monasterio e questo è un esempio di quello che dobbiamo fare anche in altre parti del sistema sanitario regionale. Io che sono un medico sono rimasto positivamente impressionato dalla competenza e dalla preparazione non soltanto medica degli specialisti ma anche dei mezzi con i quali si approcciano al paziente. Per cui per la Toscana questo è sicuramente un grande istituto. Bisogna contestualizzarlo nell'ambito della sanità toscana che purtroppo ha tante altre pecche. Nuova tappa della commissione bilancio, dell'assemblea legislativa e delle garante regionale alle carceri negli istituti di pena della Toscana. Questa volta a Volterra. Qua, dice il presidente della commissione bilancio, una situazione indubbiamente migliore degli altri istituti penitenziari della nostra regione. Un'esperienza inusuale perché Volterra ci offre una testimonianza della vita detentiva del tutto diversa da quella che si può riscontrare in altri istituti della nostra regione. Qui c'è una concezione del detenuto che vede innanzitutto l'individuo con i propri diritti, con la propria personalità e anche con quel bisogno di rieducazione che è insito anche nella detenzione. È un luogo, il carcere di Volterra, dove si sviluppano moltissime attività collaterali. Prima tra tutte quella splendida dell'esperienza teatrale che è un modo non soltanto per rieducare i detenuti ma è soprattutto un modo per favorire la cultura anche in quest'istituto. In una città che è stata anche la capitale della cultura e che ancora oggi ci dimostra come si possa fare cultura anche in un istituto di pena. Un vero e proprio sollievo anche per chi rappresenta le istituzioni, vivere questa esperienza all'interno di un carcere che ha molto da insegnare a tutto il sistema carcerario italiano. Un dato evidente, dice ancora Bugliani, qua non si registrano problemi di sovraffollamento. La popolazione carceraria è pressoché analoga al numero delle celle disponibili, ai posti letto disponibili, quindi è da questo punto di vista un unicum nel panorama degli istituti carcerari, almeno quelli che finora abbiamo potuto conoscere e visitare. Qui addirittura c'è un'esperienza particolare che è quella della cella individuale. Se si va nelle carceri un po' ovunque si trovano celle dove spesso si trovano parecchie persone letti a castello, ammassati, situazioni effettivamente precarie anche da un punto di vista della tutela della salute. Qui invece ogni detenuto ha la propria cella, più o meno piccola, però comunque uno spazio individuale. E questo è di beneficio anche alla conduzione della vita nel carcere, perché tutta una serie di possibili scontri che si possono verificare all'interno del carcere nascono proprio dalla convivenza coatta all'interno della stessa cella di più detenuti. C'è stata poi una capacità di intercettare fondi da destinare alla struttura penitenziaria. Per poter valorizzare questo luogo che è inserito nel contesto di una bellissima città ed è bello all'altezza della città nella quale si trova inserito. Devo dire che questi fondi sono stati utilmente destinati sia con il progetto degli orti sociali, perché all'interno del carcere i detenuti svolgono questa attività importante di coltivazione, di giardinaggio, attraverso appunto il reperimento di fondi che vengono dalla regione toscana, ma dall'altra parte c'è stata l'opportunità di dare valorizzazione alla Torre del Maschio, un splendido torrione che si trova proprio annesso all'Istituto di Pena e che è stato con un contributo di quasi 400 mila euro interamente ristrutturato e può diventare anche un luogo per l'accesso dei turisti. Cula di Volterra è stata la terza tappa di un giro tra le strutture penitenziali della Toscana che ha visto assieme a Bugliani anche la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi, e i consiglieri regionali Luciana Bartolini, Valentina Mercanti, Massimiliano Pescini, Elena Rosignoli e Maurizio Sguanci. Devo dire tre realtà tra loro profondamente diverse, anche se Volterra per certi aspetti richiama molto l'esperienza del carcere di massa, dove si è molto sviluppato l'impegno lavorativo da parte dei detenuti anche all'interno del carcere stesso con un'importante produzione in ambito tessile. Solliciano è una realtà invece profondamente diversa, una realtà dove effettivamente c'è una popolazione carceraria molto vasta, dove le condizioni sono indubbiamente più difficili e anche più ingestibili di quelle che si possono avere in istituti di pena più piccoli come quello di Volterra o anche quello di massa ed è un istituto, quello di Solliciano, sul quale vale la pena concentrare gli sforzi da parte di tutte le autorità competenti perché è vero, il sistema carcerario è un sistema nel quale vengono costrette nella loro libertà le persone ma è anche un luogo dove i diritti della persona comunque devono rimanere per certi aspetti inalterati e quindi credo che esperienze più complesse come quelle di Solliciano meritino un'attenzione maggiore nonostante gli sforzi che la direzione e tutto il personale all'interno di quell'istituto quotidianamente facciano affinché le cose possano andare comunque per il meglio. Un carcere, sottolinea anche Cristina Giacchi, da prendere a modello. Siamo di fronte a un'esperienza carceraria senz'altro singolare, di grande livello, c'è le singole, un buon clima tra detenuti e personale di sorveglianza con delle esperienze straordinarie che sono soltanto qua come l'esperienza della Compagnia della Fortezza e il lavoro del teatro in carcere che si fa in tante carceri toscane ma che qui ha una punta di eccellenza che ha valso al regista Armando Punzo, ideatore, promotore da 35 anni di questo bellissimo laboratorio sull'uomo come lo chiama lui, il leone d'oro alla carriera che gli verrà consegnato a Venezia il prossimo 17 giugno. Devo dire che queste esperienze di visita nei carceri sono esperienze di grande umanità e anche di scoperta di che cosa è e quanto lavoro richiede a livello organizzativo, a livello anche di disponibilità emotiva del personale coinvolto. Quindi devo dire che il carcere di Volterra potrebbe tranquillamente essere un modello di detenzione con finalità trattamentali ed educative di altissimo livello. Vorremmo che fossero tutti così, non solo in Toscana ma anche in Italia. Purtroppo lo sappiamo che non è così, intanto siamo grati per questa bella esperienza che comunque ha bisogno di cura, di assistenza. La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia per Mondadori, un volume di Anna Maria Frustaci, cosa racconta? Racconta la storia di una Calabria negli anni 90 che vive l'esperienza delle mafie, l'esperienza in particolare dell'Andrangheta in un momento che è stato cruciale poi per l'inizio delle stragi, della stagione delle stragi che ha avuto inizio in Campo Calabro con la morte della giudice Antonino Scopelliti che avrebbe dovuto sostenere l'accusa dinanzi alla Corte di Cassazione come sostituto procuratore generale nel maxiprocesso di Palermo. Nella grande storia che parla di antimafia ci sono tante piccole storie, sono le storie di tanti giovani che possono fare qualcosa per combattere la mafia. Sì, i protagonisti principali sono i magistrati che hanno dato la vita per affermare un mondo nuovo, diverso, ispirato ad una giustizia che è stata vissuta anche come impegno importante fino appunto a pagare un prezzo altissimo, quello della loro vita. Però la figura dei giudici Falcone, Borsellino e del giudice Antonino Scopelliti è accompagnata dal racconto di protagonisti che hanno 13 anni. Il significato è quello di voler aprire anche a giovani lettori e a giovani lettrici la consapevolezza della lotta alle mafie che parte dalla scuola, dall'istruzione, dalla formazione e da una cultura della legalità. L'ultima domanda, dottoressa, riguarda gli strumenti a disposizione della magistratura inquirente. Vorrei che lei mi dicesse la sua opinione a proposito del regime di carcere duro, del 41 bis e delle intercettazioni. L'istituto del 41 bis dell'ordinamento penitenziario riveste ancora oggi un'importanza cruciale perché chi si occupa di investigazione con riferimento a reati di criminalità organizzata sa perfettamente che le indagini talvolta non hanno fine, non hanno termine con il momento dell'esecuzione di una misura custodiale. Anzi, quello è il momento centrale per il passaggio di consegne tra chi è stato tratto in arresto e gli esponenti della cosca rimasti all'esterno che devono comunque continuare ad affermare il controllo del territorio. Quindi questo regime ha la funzione di limitare quelle comunicazioni con il mondo esterno che potrebbero far conservare il controllo del territorio a chi è stato tratto in arresto per reati particolarmente gravi che riguardano la partecipazione in posizione apicale ad un'associazione di stampo mafioso. Per quanto riguarda il regime delle intercettazioni oggi se ne discute moltissimo ma abbiamo avuto la prova sul campo che sono uno strumento straordinario di contrasto non solo alla criminalità organizzata anche a reati particolarmente importanti che coinvolgono i colletti bianchi certamente occorre anche un'attenzione e un contenimento dei costi ma questo strumento può essere perseguito con attività diverse dalla limitazione o dalla soppressione di uno strumento investigativo così prezioso. Non soltanto la presentazione di un volume si parla di antimafia a 30 anni dalle stragi degli anni 90. Si bisogna investire in legalità e la lotta alla criminalità organizzata non passa attraverso solo le azioni giudiziarie ma passa attraverso la costruzione della cultura della legalità. Io sono davvero felice di poter presentare oggi qui questo libro perché insomma il racconto di Lara, il racconto della dottoressa Frustaci è un po' anche il punto di partenza del mio impegno nelle istituzioni, il mio servizio civile. Era il 23 di maggio del 1992, era in un piccolo paesino della Basilicata con tante ragazze e ragazzi era un momento di festa, poi ad un certo punto fummo raccolti tutti in una stanza e ci fu comunicato dell'attentato subito dal giudice Falcone, sua moglie, la sua scorta e lì le risate divennero pianto, disperazione, paura ma anche voglia di reagire in quei giorni e poi il 19 di luglio dello stesso anno, la morte di Paolo Borsellino e poi la strage dei Giorgofili nel 1993 qui a Firenze. Insomma parte del nostro impegno nelle istituzioni, della mia generazione parte proprio di lì dalla lotta alla criminalità organizzata, l'impegno a non voltarsi dall'altra parte. Io alle ragazze e ragazzi dico sempre non siate indifferenti, non voltatevi dall'altra parte. In Toscana non c'è la mafia che uccide, però c'è una mafia che è una criminalità organizzata che prova ad infiltrarsi, prova a entrare nelle nostre attività imprenditoriali. Compito di ciascuno di noi è costruire cultura della legalità. Grazie a tutti!